Torna la rubrica in cui eleggiamo il gioco che più ci ha colpito fra quelli usciti negli ultimi 30 giorni e con un bel carico di prodotti da spulciare. A settembre del resto le uscite videoludiche sono state parecchie. Eccoci quindi a dare un'occhiata ai titoli in lizza per il podio. Partiamo da una produzione indipendente. Proprio sul finire del mese i The Astronauts pubblicano The Vanishing of Ethan Carter, avventura grafica dai toni malinconici e funerei, intrisa di atmosfere lovecraftiane e sostenuta da un plot che mescola thriller ed esoterismo. Il gioco si colloca in quel filone narrativo che racchiude di Reshter e Gonom, ma non rinuncia per fortuna ad una componente ludica molto più presente, che propone enigmi interessanti ed una struttura d'avventura grafica moderna, opponendosi alla linearità disarmante degli epigoni della filosofia Telltale. Restando in tema di avventure grafiche, è impossibile non citare The Four Dark Dreams Don't Die, ultima fatica dell'eclettico Swery 65, già autore dello splendido Deadly Premonition. Pensato per essere giocato integralmente con Kinect, il titolo è un concentrato di stramberie nipponiche, scene surreali e personaggi fuori di testa. Raccontato da una sceneggiatura eccezionale, rappresenta una delle produzioni più creative e originali di questa nuova stagione. E sempre sul fronte delle stranezze nipponiche troviamo Danganronpa 2, bizzarro incrocio fra un'avventura grafica e una visual novel, infarcito di minigiochi e altre attività extracurricolari. La sua forza è comunque tutta nella trama e nei suoi intricati intrecci, nei suoi personaggi banali ma imprevedibili, nei suoi risvolti illogici e tremendamente reali. Si tratta insomma di uno dei migliori titoli arrivati su PS Vita, è uno dei prodotti più originali e alternativi del momento. Cambiando totalmente genere arriva Wasteland 2, una delle esclusive PC più in vista di quest'anno. Il titolo si prefigge il compito di riportare in auge gli storici CRPG. Lo fa in maniera molto classica, rifugendo le innovazioni del combat system del collega firmato Larian Studios, ma riuscendo comunque ad immergerci in un affascinante mondo post-apocalittico. Un'ottima sceneggiatura supera i limiti della trama, e le possibilità legate alla personalizzazione del party mettono una pezza sugli scontri lievemente monocordi. Giriamo pagina e finiamo diretti in casa Nintendo, su 3DS più precisamente dove troviamo Fantasy Life. Mix eterogeneo fra le dinamiche di un Life Simulator alla Animal Crossing e quelle di un semplice action RPG. Il prodotto level 5 non delude. Rappresenta una variazione in tema fantasy della struttura di Harvest Moon e con generi, un po' ripetitivo nelle meccaniche e meno ispirato rispetto all'alternativa Nintendo. Offre comunque una trama principale da seguire ed un sacco di mestieri tra cui scegliere. Fra i runner-up di questo mese c'è anche un'eccellenza tutta italiana, Murasaki Baby. Il prodotto di Ovo Sonico e Massimo Guarini, pur condensatissimo, ha saputo regalarci emozioni forti, trascinandoci in un mondo bellissimo e contorto, attraversato da splendide suggestioni stilistiche e cromatiche. Anche a livello di gameplay il titolo se la cava, concentrato tutto sull'interazione con le superfici tattili di PlayStation Vita. Un'altra produzione indipendente finisce nella lista. Si tratta di Velocity 2x, sì quella digna evoluzione di un prodotto già di per sé valido e innovativo. L'idea di base del primo capitolo era quella di prendere uno sparatutto a scorrimento e sostituire le tonnellate di proiettili con l'urgenza di un attraversamento rapido, ritmato, schizzato eppure impeccabile. Adesso la stessa idea viene applicata anche a fasi platform, che si alternano alle sezioni classiche. Nesce un titolo frenetico e perfetto per i maniaci dell'icecore. Anche FIFA 15 finisce fra i runner-up. Il gameplay del nuovo calcistico EA, nonostante gli elementi che la maggiore potenza di calcolo a disposizione ha permesso di arricchire e ottimizzare, si rivela fedele alla formula e alla filosofia di calcio che il team porta avanti con la sua serie, dividendo il pubblico tra favorevoli e meno. Eppure, anche grazie all'eccezionale passo avanti compiuto sul versante tecnico e nella riproposizione della vita di un match mai così fedele e realistica, FIFA 15 lancia uno sguardo verso il futuro delle simulazioni calcistiche, senza tradire o sorprendere la propria nutrita fanbase, ma lasciando intravedere tutte le potenzialità che il genere potrà esprimere durante l'attuale generazione. Chiudiamo l'elenco dei candidati con una bella sorpresa, la terra di mezzo, l'ombra di Mordor. L'action free roaming di Monolith stupisce tutti, proponendo un mix non certo originale, ma riuscitissimo. Le meccaniche di gioco pescano a piene mani delle ultime avventure videoludiche di Batman ed Assassin's Creed, ma il mix, collocato nel nuovo contesto e sostenuto da un bel sistema di progressione del personaggio, funziona alla grande. L'immaginario tolkeniano è ben utilizzato e, anche al netto di un'ambientazione un po' troppo monotona, le missioni ben sviluppate e il Nemesis System bastano a rendere il gioco completo e divertente. Ed eccoci finalmente al gioco del mese, il Game of the Month di settembre per EveryEye è Destiny. Una scelta che farà discutere, visti molti indignati, dopo l'uscita dell'imponente opera di Bungie. Destiny è arrivato sul mercato carico di aspettative e promesse, ed è stato in parte vittima del suo hype. Un altro degli elementi accolti in maniera poco entusiasta dagli utenti è stata la struttura da MMO, l'urgenza di puntare quasi tutto sul loot, facendo e rifacendo le stesse missioni. Eppure, anche al netto dei difetti di una mole di contenuti forse non sufficiente a coprire il periodo che va dal lancio al primo DLC, Destiny c'è letteralmente catturati nella sua spirale luminosa. Il merito è di un gameplay shooter da cui sembra impossibile staccarsi, curato come nella migliore tradizione Bungie, ed è la bellezza avvolgente del mondo di gioco, ad oggi uno dei migliori universi sci-fi mai costruiti in un videogame. Che siate fan del PvP o amanti della co-op, Destiny è un titolo che va giocato, il rischio è solo quello della sua effazione.